Come aumentare gli FPS su Fortnite in questa nuova stagione Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial su Fortnite Ovviamente andiamo prima sulla barra della ricerca Qua sotto scrivi direttamente e segui Ma se vuoi aprirlo direttamente subito subito Premi il tasto Windows sulla tastiera del logo di Windows Più R di Roma E apri e segui Qua sopra scrivi %updata % Fai ok Andiamo direttamente su appdata Vai su local Scendi fino a giù fino a trovare la cartella di Fortnite Game Save Config Windows client Game user settings Ed eccola qua Scendi fino a giù fino a trovare il parametro Del ray tracing chat settings E il scalability group Ovviamente tutti questi parametri su 0, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 2 Devi metterli tutti su 0 Quindi fai 0 qua Fai 0 qua Fai 0 qua Fai 0 qua Lo fai su tutti 0 qua 0 qua 0 qua 0 qua 0 qua 0 qua E 0 qua Per diminuire così la grafia Distanza, le ombre, la text, gli effetti L'ombra, l'acqua Poi ray tracing Questo qua è falso Se lo utilizzi è attivato e non lo supporti Quindi va bene così Chat settings C'era un hide blocked true Windows ok Fai 0.1 File e salvi Salvi così game user settings Una volta fatto In descrizione ti ho lasciato così Il pacchetto che ti permetterà di diminuire così la grafica su fortinet Aumentando anche gli fps Grazie a Nvidia profile inspector Un pacchetto RAR Che se hai problemi con il link Entra nel mio server discord Te lo mando direttamente io in privato Basta che mi scrivi a me in privato E ti mando il pacchetto di Nvidia profile inspector Ovviamente tu scaricherai così un pacchetto RAR Non ho il pacchetto RAR Solamente la cartella Quindi il pacchetto RAR è come questo Ti faccio un esempio Tasto destro sopra WinRAR extract to Nvidia profile inspector Con WinRAR Entra nella sua cartella Qui c'è Nvidia profile inspector Ci clicchi sopra E lo avvii Una volta fatto Qua sopra scrivi direttamente Fortnite Eccolo qua Come per vedere si collega anche al percorso file di fortinet client Scendi fino a giù Fino a trovare così L'anti-aliosing transparent smooth assembly Questo qua lo ha ability Questo qua super sampling Metti su 100AA mode replay Sotto texture filtering Più 3.00 Metti più 2.8750 Stessa cosa anche con questo Eccolo qua Una volta fatto Non ti resta che applicare le impostazioni Una volta applicate Non ti resta che entrare su Fortnite E puoi modificare così anche le impostazioni sul gioco Quindi riduci la grafica anche là sopra Se non ti piacciono queste impostazioni Puoi sempre andare su restore del profilo A Nvidia Quindi in questo caso ripristinerà tutte le impostazioni E puoi anche cancellare il programma Se non ti serve più Ma ovviamente per queste impostazioni salvate su Fortnite Il programmino deve rimanere attivo Quindi chiudiamo un attimo qua Visto che adesso non ci serve Andiamo direttamente su Fortnite Ed eccoci qua su Fortnite Ovviamente andiamo direttamente nelle nostre impostazioni Andiamo direttamente su video Grafica Voi puoi vedere Motion blue Qua da si Metti no Anteriore non scrive su risoluzione Non è epico Metti no E fai applica Raccomandato Risoluzione 3D Metti un 50% Risoluzione 3D Dinamica no Ombre no Distanza visuale Texture medio Effetti ridotto Post processing medio Mostra FPS Si Indicatore di latenza Si Nvidia reflex On più boost E fai applica Una volta fatto tutto Ti resta che giocare a Fortnite E vedere come è uscito fuori il gioco Con un aumento di FPS E con una riduzione in meno Di luck Quindi Grazie a tutti per questa visione E noi ragazzi Ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao